Chiuso Ehi un ospedale, vedi se trovi forniture mediche Non ce n'è mezza Ehi un ospedale Oh ma non muore più Lavatrici Oh ma non muore più Oh ma non muore più Devo neanche visti E' ora di fare C.A.S.I. Nooo Mi spiace lo faccio Un ospedale senza riforniture mediche Tranne queste due scatole Ahia Conosco questo posto Lo conosco bene Un ospedale 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 C.A.S.G., Un ospedale Potresti colpirlo con il piede di poco, non si sa mai. Sarà subito fatto. È leggerissimo. Va vaffanculo, io che ti do retta. Prego, non è compito tu. Non di nuovo. Ti preoccupare. Non di nuovo. Non di nuovo. Compito tuo? Tante forniture mediche, vedo. Ho trovato uno shotgun. Tutte le armi che c'erano prima, no, eh. Merda! Ma喔! ma levatevi dalle palle grazie ah di ciò i nostri amici ci ho provato va bene uno io uno te va bene mannaggia ah fanculo togliti togliti questo è male orca oh 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 ce ne uno la ma come si menano caputana ce la farò a scegliere l'arma ah che culo che schifo è caduto per un pelo grazie ahia ma no volevo ammazzarlo con questo vediamo se funziona indietro no caputana ma ma vaffanculo attenzione allora c'era da andare qui dove c'era l'esercito siamo l'esercito degli zombie dopo di te facciamo paura un altro po' e tu mi manchi ma vaffanculo ma vaffanculo non 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 ma vaffanculo